Si svolta questa mattina in Piazza Duomo a Voghera, accanto all'entrata di Palazzo Gunela, la cerimonia d'inaugurazione del defibrillatore semi-automatico donato da Avis, un dispositivo medico computerizzato in grado di riconoscere un ritmo cardiaco che richiede uno shock e consigliare al soccorritore di erogare la scarica premendo un pulsante. Lo strumento, detto anche AED, utilizza istruzioni vocali, luci e messaggi di testo per guidare il soccorritore in ogni passaggio. Si tratta quindi di un dispositivo molto preciso, affidabile e facile da usare. Con poche ore di formazione, chiunque può imparare a gestire un soccorso con defibrillatore semi-automatico esterno in modo sicuro ed autonomo. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il commissario prefettizio Sergio Pomponio, che si è detto commosso per un momento toccante che riguarda tutta la città, il direttore sanitario dell'Avis, Massimo Sciarretta, con il presidente della sezione vocherese, Daniele Bruno. Direttore Sciarretta ha ringraziato la protezione civile, che si farà carico del controllo dello strumento, spiegando che la scelta di posizionare il defibrillatore in Piazza Duomo è stata dettata dalla necessità di renderlo accessibile al maggior numero possibile di persone, non a caso proprio nel cuore della città. Per il presidente di Avis Voghera, la speranza è che lo strumento non venga mai utilizzato. Questo defibrillatore è il simbolo dell'impegno di Avis nell'ambito della tutela della salute pubblica, oltre che un'opportunità per i cittadini che non conoscono Avis di avvicinarsi ai 1900 donatori che quotidianamente donano il sangue, ha sottolineato Daniele Bruno che ha ringraziato il commissario prefettizio e la giunta Barbieri. Presente per la benedizione è il vescovo Vittorio Viola, che ha voluto dare risalto all'importanza della logica del dono e della preziosità di quando ciascuno di noi si apre e si offre all'altro.